Benvenuti a questa nuova intervista dell'agenzia di stampa Italpress. Oggi con noi abbiamo Barbara Mazzali che è assessore al turismo di Regione Lombardia. Buongiorno. Buongiorno. Senta, allora Lombardia e turismo, un binomio che non sempre è stato così vincente. Ci ricordiamo di un passato in cui il turismo in Lombardia era forse forte nel lago o in qualche località alpina, ma ci viene in mente le città vuote, le domeniche senza locali aperti. Cosa è cambiato e come ha contribuito la Regione in questo cambio di paradigma? Allora, sicuramente la Regione Lombardia la possiamo definire da oggi veramente una Regione dai tanti turismi. Sicuramente nell'idea generale è sempre stata una Regione riconosciuta per la sua operosità e per il suo mondo imprenditoriale. In realtà è una Regione che offre un'offerta turistica straordinaria. Cioè noi siamo la Regione con il numero più alto di siti UNESCO, siamo la Regione con i prodotti enogastronomici, DOP, IGP, abbiamo il numero più alto di questa offerta enogastronomica. Siamo la Regione che praticamente dove puoi sciare nella nostra Valtellina piuttosto che verti una bollicina in Franciacorta, piuttosto che guardarti un sito UNESCO, una sabbioneta a Mantova, piuttosto che ascoltarti con uno stradivario, un violino stradivario nella nostra Cremona. Oppure se vuoi parlare di bellezza puoi venire nella nostra crema dove c'è il 60% della produzione della cosmesi italiana e il 45% di quella europea. Quindi siamo una Regione che negli ultimi 10 anni sicuramente si è scoperta e ha scoperto tutto quel patrimonio che pochi conoscono e che noi abbiamo in effetti forse raccontato non in modo adeguato. Ecco, un successo che è comunque in un certo senso anche legato ai numeri. Ultimamente negli ultimi anni c'è stato un vero e proprio boom. Ce li racconta e ci dice anche fin dove ci si può spingere. Allora, noi quest'anno, il nostro anno di riferimento è sempre stato il 2019 che è stato... Pre-Covid. Pre-Covid, esatto. È stato l'anno del boom del turismo italiano. Un anno che noi avevamo veramente paura e timore di non riuscire a raggiungere. Quest'anno noi abbiamo chiuso il 2023 con 51 milioni di pernottamenti, 19 milioni di presenze, un 17% in più rispetto a quel 2019. Quindi noi oggi stiamo parlando di un 2024 che ha lasciato alle spalle il 2019 e la nuova sfida sarà quella di superare un 2023 che è stato straordinario. Abbiamo avuto una crescita veramente importante di turismo straniero. Ci sono province che raggiungono l'80% di turismo internazionale come Como, Brescia con il Lago di Garda, ma tutte le province sono cresciute in modo molto interessante e tra l'altro con un'offerta differenziata. perché tu in Lombardia, come dicevo prima, puoi venire a sciare, puoi venire a farti una bellissima vacanza outdoor. Noi siamo la regione con 4.000 km di piste ciclabili, tra l'altro tutte attrezzate, quindi un patrimonio importante considerando che in Italia ne abbiamo 20.000 km, possiamo dire la nostra. Ma abbiamo anche una multi offerta che ti dà la possibilità di venire da noi, prenderti il sole sui nostri Lago di Garda, farti una giornata appunto in un sito di Unesco. Abbiamo un patrimonio ad esempio di ville storiche di cui il 60% aperte al pubblico che puoi visitare, meravigliose, ma dove puoi fare anche delle esperienze di pernotamento incredibili. Poi abbiamo, come posso dire, abbiamo una qualità. Ecco, noi siamo riconosciuti nel mondo per la nostra offerta di qualità. E questo è un taglio che Regione Lombardia, sul quale anche il Presidente Fontana ha un'attenzione particolare, perché effettivamente i numeri e i dati ci raccontano che il nostro turista è un turista che arriva, che ha delle esigenze importanti e che i nostri albergatori o comunque tutti, tutta la nostra, diciamo così, il nostro mondo dell'accoglienza è in grado di soddisfare dai nostri chef stellati, piuttosto che anche i nostri piccoli B&B, dove c'è stato fatto anche un lavoro di ricerca, perché siamo anche la regione del design. Noi con il nostro Salone del Mobile esportiamo bellezza in tutto il mondo. Quindi tutta questa creatività è chiaro che poi la ritroviamo in quella che è la nostra offerta turistica. Oggi un altro dato secondo me molto importante su quale noi abbiamo un'attenzione è quella del sentiment, cioè il livello di gradimento. Abbiamo una percentuale che è superiore a quella del dato nazionale, ma che poi ogni anno vediamo che aumenta. Quindi vuol dire che la nostra offerta è sempre più performante, è un'offerta sempre più di qualità e che chi arriva comunque è contento dell'accoglienza che riceve. Questo per noi è un dato su quale prestiamo appunto una grande attenzione. Ecco lei ha parlato di tanti tipi di turismo, in quale siamo già al top e invece in quale può darci più soddisfazione in futuro? Allora noi siamo già al top sui laghi, perché chiaramente quei famosi 19 milioni di presenti... Non dovremmo mettere il ticket come è Venezia nei laghi? Fra un po' non lo mettiamo, ma sicuramente abbiamo i numeri per poterlo fare. Allora sicuramente sono i nostri laghi che sono stati un'esplosione. Subito dopo il covid noi abbiamo visto anche un turista che è cambiato, un turista che ha più voglia di avere delle esperienze, un turista che è meno interessato diciamo così alle vie iconiche e ha più desiderio di entrare nelle nostre comunità, di avere contatto umano, di parlare e anche di ascoltare dei racconti e delle storie. Noi abbiamo un tessuto di eccellenze che è fatto e da radici, no? Che proprio si fondano nella Lombardia. Quindi sono tutte storie che i turisti ascoltano. Le nostre case vinicole hanno tradizione, no? Quindi dalla storia del nonno, del bisnonno si arriva ad oggi ad avere delle cantine altamente tecnologiche, super performanti con una bollicina di straordinaria qualità. Ecco, piccola nei numeri ma perché piccola è la zona di riferimento, ad esempio parlo della Franciacorta perché quando si dice ma sono pochi i numeri delle bottiglie, sì, ma però sono di straordinaria qualità e sono riferite solo ed esclusivamente a quell'area perché anche lì c'è un'attenzione particolare. Quindi, come tutti i prodotti di qualità, insomma, non possono avere dei numeri, dei grossi numeri. Poi abbiamo una montagna che ci sta dando delle soddisfazioni incredibili. Abbiamo la nostra Valtellina che sarà anche sede delle prossime Olimpiadi. Un grande evento che riuscirà a raccontare di una Lombardia straordinaria. Noi veniamo via da dei numeri che ci ha visto nel 2015 con Expo e oggi riproponiamo questo grande evento nel 2026 che poi si trascina negli anni successivi tutto un indotto perché noi già stiamo lavorando per raccontare a chi verrà che in Valtellina può trasciare, che è straordinaria ma che poi dovrà ritornare per visitare le nostre altre province perché è quella la grande sfida del grande evento. Non è tanto il momento che è straordinario di per sé ma è quello di riuscire in quel momento a mettere a reddito, diciamo, quel numero di stranieri che poi dovranno ritornare perché noi gli avremmo raccontato di una Lombardia eccezionale. Lei ha coniato quel marchio Lombardia Style, di cosa si tratta? Che scopo ha? Allora Lombardia Style intanto è un brand che è stato voluto dal presidente Fontana e molto su quale lui tiene in modo particolare perché Lombardia Style non è solo un brand, è diciamo un contenitore di stile, dello stile Lombardo perché noi siamo abituati a lavorare, a lavorare e a produrre sotto tutti i profili sempre delle eccellenze. Noi siamo i primi per quanto riguarda il salone del mobile, per quanto riguarda il design, noi siamo i primi nelle fashion, per quanto riguarda i nostri stilisti ma i nostri anche tutto quella fascia intermedia sotto di fassonisti che sono il vero patrimonio poi delle fashion e sono un patrimonio incredibile che stanno cercando le grandi multinazionali di portarsi a casa. Noi siamo, come dicevo prima, i primi produttori di cosmesi in Europa, quindi essendo produttori di bellezza sotto tutti i punti di vista è chiaro che è uno stile, è un modo di vivere, quindi Lombardia Style di fatto si declina con lo stile di vivere di tutti i Lombardi. I Lombardi quando fanno qualcosa la sanno fare bene, la sanno forse raccontare meno, però esportano nel mondo bellezza. Noi abbiamo voluto con questo brand e vogliamo raccontare quello che è proprio il modo di vivere dei Lombardi, quindi vogliamo rassicurare che chi viene in Lombardia per business, per turismo, per qualsiasi cosa verrà accolto con il massimo del servizio, il prodotto che acquisterà sarà un prodotto Lombardo di alta qualità che segue tutte le procedure dell'offerta di qualità e lì sotto questo brand noi raccontiamo questo, raccontiamo di una Lombardia, di uno stile Lombardo che è il nostro modo di essere. Benissimo, ringraziamo l'assessore al turismo di Regione Lombardia Barbara Mazzali e vi diamo appuntamento alla prossima intervista dell'agenzia di stampa Italpress.